Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questa tavola rotonda. Abbiamo alcune piccole variazioni sul programma, perché il professor Fabio Pammolli, con grande rammarico sia suo che nostro, purtroppo è rimasto bloccato all'aeroporto di Londra, veniva da Boston dove è visiting professor quest'anno e quindi purtroppo ha perso la coincidenza e non può essere qui con noi. Anche Gaetano Quagliariello è rimasto bloccato da impegni politici a Roma, sarebbe intervenuto come presidente della Fondazione Magna Carta ed è degnamente sostituito dal professor Cubeddu che è il vicepresidente della Fondazione Magna Carta. Io modero con grande piacere, per me è un onore moderare questa tavola rotonda, credo che un moderatore in questi casi abbia due compiti. Il primo è quello di salutare e presentare le persone che partecipano e il secondo è quello di dare qualche piccolo input, qualche piccolo suggerimento sui temi che potrebbero essere trattati, cercando naturalmente di essere il più possibile breve, soprattutto quando si hanno relatori di questo calibro. Comincio Franco De Benedetti che è naturalmente un personaggio noto che ha bisogno di poche presentazioni, che qui interviene come presidente dell'Istituto Bruno Leoni. Abbiamo il senatore Maurizio Sacconi che è stato anche ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha ricoperto importanti incarichi anche nell'ONU, anche lui ha bisogno di poche presentazioni direi e collabora attivamente con la Fondazione Magna Carta. Abbiamo il professor che oltre che essere professore di storia contemporanea alla LUIS è anche il direttore dell'unità di ricerca di storia politica qui all'IMT di Lucca, il professor Cubeddu, come ha detto vicepresidente della Fondazione Magna Carta, professore di filosofia politica all'Università di Pisa e poi abbiamo Alberto Mingardi che è direttore generale, giusto questa è la definizione, dell'Istituto Bruno Leoni. Abbiamo pensato di organizzare l'evento in generale, ma in particolare la tavola rotonda, con questi due importanti think tank italiani, appunto l'Istituto Bruno Leoni e la Fondazione Magna Carta, perché l'idea, la nostra idea qui è dibattere anche sull'importanza delle idee nei processi di cambiamento politico. In queste due giornate di studio abbiamo visto che gli anni di governo di Margaret Thatcher sono stati anni di grande cambiamento politico. Il tacerismo è l'esempio forse più importante di cambiamento politico a favore del libero mercato in una democrazia. Cambiò l'economia, ma cambiò anche e soprattutto la cultura politica del Paese. Abbiamo visto anche qual era la situazione della Gran Bretagna prima della Thatcher. Ed era una situazione di una democrazia bloccata da lobby e da corporazioni. Una situazione che, pur con delle differenze importanti, per tanti aspetti ricorda la situazione italiana di oggi. Partendo da qui, la domanda è come è possibile realizzare dei cambiamenti nelle democrazie mature. E se il tacerismo può essere preso esempio o può essere comunque un caso di studio per capire come questo tipo di cambiamenti possono essere proposti e affrontati. Io credo che forse il nostro ragionamento si può sviluppare un po' cercando di ragionare su tre punti, di rispondere a tre diverse domande. La prima domanda riguarda, nel confronto con il tacerismo, il contenuto delle riforme taceriane. Oggi l'Italia ha bisogno di riforme come quelle che ha fatto la Thatcher, ha bisogno di liberalizzazioni e privatizzazioni, ma anche ha bisogno di cambiare il mercato del lavoro, il sistema finanziario, ha bisogno di intervenire su quello che in Inghilterra viene chiamato il local government, quindi i centri di spesa locale, che anche in Italia si pensi ad esempio alle municipalizzate e quant'altro molto spesso sembrano essere fuori controllo. Quindi in questo senso quel processo che è stato portato avanti in Gran Bretagna può essere preso nei contenuti ad esempio dall'Italia rispetto ai problemi della situazione italiana. Questa è la prima domanda. La seconda domanda riguarda gli strumenti che si hanno a disposizione. Abbiamo visto in questi due giornati che l'Inghilterra ha a disposizione, mette a disposizione il premier degli strumenti istituzionali importanti che gli consentono di incidere effettivamente quando si vogliono fare dei cambiamenti radicali di poterli davvero realizzare. L'Italia invece sembra caratterizzata da una debolezza strutturale. I governi sono deboli, molto spesso durano poco. Quando durano, ci sono stati negli ultimi anni i casi di governi che sono durati molto, non sono riusciti a fare le riforme che promettevano o le riforme che sono riuscite a fare molto spesso sono state anestetizzate dalla burocrazia o dal sistema giudiziario o da qualcos'altro. Di qui derivano due ordini di considerazione. La prima domanda è è un problema di istituzioni che non funzionano in Italia oppure è un problema di volontà politica e quindi è anche un problema di classe dirigente che non ha saputo affrontare questo tipo di problema. E la seconda domanda che si pone in continuità con questa è dove va cercata la via di uscita. Abbiamo visto che il tacerismo è stata una leadership forte di un individuo che si è contrapposto al suo partito e all'establishment in generale e partendo da questa leadership politica forte ha cercato un po' di scavalcare sia gli apparati di partito sia gli apparati burocratici contraponendosi ad essi. La via di uscita consiste in questo anche per l'Italia. Dobbiamo cercare qualcuno che sia un outsider rispetto alla politica e l'outsider può essere uno che viene fuori da un percorso che non è politico oppure da uno che si propone all'interno del proprio partito in contrapposizione all'establishment esistente all'interno del partito. Questo era il secondo punto che appunto si struttura su queste due domande. Il terzo punto su cui forse potremmo riflettere è quella che abbiamo chiamato la battaglia delle idee. Abbiamo visto che il tacerismo è riuscito a realizzare i compiti che si prefiggeva perché si inseriva all'interno di un dibattito più ampio, di un cambiamento culturale importante portato avanti dagli columnist, dagli editorialisti, dai think tank che avevano cambiato l'immagine del mercato, avevano fatto un'operazione importante sia di messa a disposizione dei politici, di policy e di strategie su come realizzare gli obiettivi e quali obiettivi realizzare, ma anche intervenire sul clima culturale del Paese, cercando di far passare anche davanti all'opinione pubblica delle idee che in passato non erano molto apprezzate. Questi sono naturalmente tre dei possibili temi che potrebbero trattare i nostri relatori, ma lascio anche alla loro discrezione, alla loro inventiva, quel decidere su come articolare queste cose. Io precederei facendo parlare per primo Franco De Benedetti, poi Giovanni Orsina, Raimondo Cubeiddu, Maurizio Sacconi e Alberto Mingardi. Grazie, buongiorno a tutti. Quando si parla di, se ci si chiede, any lessons from manufacturing Italy è ovvio il riferimento attuale e quindi il riferimento a chi in qualche modo si pensa che abbia di fronte un compito non molto diverso da quello che ha avuto la Thatcher nei suoi anni. Cioè, dette pure narrato in favola e il pure ovviamente è il giovane Renzi. Io credo che entrambi hanno, c'è di fronte a sé il problema di risollevare il paese da una gravissima crisi. Ci sono molti gli elementi di similitudine, entrambi sono non ideologici, entrambi innovatori, entrambi preferiscono lo sharp shock, come è stato ricordato ieri rispetto al gradualismo. Entrambi hanno, sono in polemica verso i partiti di origine, entrambi fanno leva anche sull'orgoglio nazionale, anche se Brussels è meno pericoloso delle Forkland. Entrambi usano, hanno una grande capacità di usare la retorica politica e mi sembra che il parallelo con il no, no, no della Thatcher sia un certo sì, sì, sì. Che poi uno fosse conservatore e l'altro sia di ascendenza socialdemocratica poco importa. Quello che è singolare è che tutti e due hanno nemici a sinistra. E qui io credo che per rispondere alla domanda che ci ha fatto il moderatore rispetto al contenuto delle riforme, gli strumenti, volontà politica, sia necessario cogliere le differenze più che le somiglianze. E la differenza è che la Thatcher aveva i minatori, Renzi moralisti, Scargil, la Thatcher aveva Scargil, Renzi a Flores Arcaes e Rodotà. Entrambi fanno uso della leadership carismatica e anche giacobina. Cioè la Thatcher ha una leadership giacobina, Renzi deve lottare contro i giacobini. La Thatcher contro il potere dei sindacati, Renzi contro l'influenza degli aiatollà. E se va a vedere da dove deriva, io sono convinto che questo nasce nel 1945. Non so quanti hanno visto o ricordano il film di Ken Loach, The Spirit of 45. Io rimango impressionato da quella, prima quando sentivo snocciolare dal professor Magazzino le privatizzazioni che ha fatto la Thatcher e rivedo di quel film le immagini in cui anno dopo anno le ferrovie, l'energia, le poste, una dopo l'altra. Terrificante. Ma perché? Perché l'idea qual era? Nel 1945 abbiamo vinto la guerra contro il nazismo, possiamo vincere la guerra contro la povertà. Questa è l'idea di fondo. Da qui è nato poi tutto quello, giusto sbagliato che fosse la strada che hanno preso, ma quella era la strada. Da noi invece che cosa era? Abbiamo vinto la dittatura, ci siamo liberati dal fascismo e quindi prendiamo le istanze della liberazione e dell'emancipazione. E per questo gli intellettuali naturalmente vanno verso le idee di liberazione, di emancipazione. E quindi gli intellettuali sono stati attratte da questo e hanno incominciato lì il ruolo importante che hanno avuto nella vita politica italiana. Solo che poi il Paese ha vissuto il miracolo economico e allora non rimaneva altro che scivolare verso il moralismo. La sinistra che si vantava di avere a modello Machiavelli si impantana nel politically correct. Noi non abbiamo minatori. Cioè ce li abbiamo anche, sono quelli del Sulcis. Io ricordo Berlusconi del 94, una delle prime cose che mi aveva fatto impressione quando lui era, avevano messo una tenda lì davanti al Palazzo Chigi e lui, non abituato probabilmente, è uscito e gli è andato a dire, ma sì, ma tante tranquilli, come al solito sappiamo, ma sì, la soluzione c'è, per carità, non è un problema. E quindi il berlusconismo ha unificato un Paese sostanzialmente di destra, ma non dobbiamo dimenticare che la singolarità, parafrasando una famosa battuta di Cerrapico, quando voi eravate ancora nel camper del CAF, noi eravamo già anti-berlusconiani. L'anti-berlusconismo ha ipotecato la politica della sinistra e sopravvive al berlusconismo, eternato in una categoria antropologica. Noi al posto dei minatori abbiamo il pubblico impiego. Questa è la nostra miniera. La Thatcher deve combattere contro coloro che le impediscono di realizzare la sua politica e Renzi deve combattere contro coloro che dovrebbero realizzare la sua politica. E questa è una differenza enorme. È la differenza che c'è tra il bacillo della tubercolosi e il virus dell'AIDS, che attacca il sistema immunitario che dovrebbe proteggerci. Quindi, quando si domanda le conseguenze of ideas, le battaglie di idee, ecco, io credo che questo è il tema veramente di fondo. Si è discusso ieri se il Tacerismo sia stato un'ideologia. Io credo che per me il retaggio della Tacer, appunto lo ricordavo prima quando mi è molto impressionato questo elenco delle privatizzazioni, io pensavo all'entusiasmo e alle importanze che ha avuto per persone che hanno fatto occasionalmente percorsi politici analoghi al mio, l'entusiasmo per quando chi sarebbe diventato Lord Lawson diceva the business of government is not the government of business. Ecco, forse è quella, forse il suo retaggio sono le idee che l'hanno aiutata a vincere e che hanno vinto con lei. Per Renzi, per il nostro Puer in Fabula, le idee contro cui combatte sono quelle di chi vede diminuire la possibilità di influire sull'identità del centro-sinistra e aumentare la possibilità che il nuovo corso possa rottamare quell'Italia è tenuto in ostaggio da piccole minoranze conservatrici e diventato una sorta di repubblica fondata sul moralismo. La citazione, il citato è presente, mi scuserà. Ecco, io credo che l'impressione è che Renzi debba imparare che le idee servono. E quindi probabilmente questo convegno, per le cose che sono state dette, per le metodologie che sono state dispiegate, per i riferimenti culturali che sono stati dati, dovrebbe doverosamente essergli dedicato. Se il moderatore voleva riprendersi la parola, il moderatore è liberale. Parola a Giovanni Orsina. Grazie. Dunque, la cosa che mi colpisce quando, insomma, riflettendo, mi ha colpito riflettendo, una delle cose mi hanno colpito, riflettendo sulla parabola del berlusconismo, che è stato il tentativo autodefinito di faccerismo all'italiana, se andiamo a riguardare i discorsi di Berlusconi, sono pieni di riferimenti a Margaret Thatcher, a Ronald Reagan, alla rivoluzione liberista, non soltanto nel 94, ma ancora all'inizio degli anni 2000, e poi di nuovo, in realtà, con il rilancio non particolarmente efficace degli ultimi tempi. Una delle cose che mi avevano colpito era, da storico, la successione dei tempi. E io credo che il problema di una eventuale riproduzione in Italia della rivoluzione traceriana sia soprattutto legato a questo. Le cose in storia non avvengono in determinati momenti per caso, avvengono in determinati momenti perché quelli sono i momenti in cui debbono avvenire, in cui le condizioni sono quelle giuste perché quelle cose avvengano. Il che naturalmente non vuol dire che non possano essere riprodotti fenomeni analoghi in epoche diverse, però non ci si può illudere che in epoche diverse quei fenomeni possano essere riprodotti nella stessa maniera, perché le circostanze storiche, economiche, internazionali, ma, se mi permettete l'espressione fortemente umanistica, spirituali, non sono le stesse. E appunto, ragionando sulla parabola berlusconiana, una cosa che mi aveva colpito molto chiaramente era proprio il fatto che, quando Berlusconi annuncia la sua rivoluzione traceriana, in, diciamo così, in salsa amatriciana, o forse sarebbe meglio dire alla milanese, trattandosi di Berlusconi, quando l'annuncia siamo già quasi alla metà degli anni 90. Allora è evidente che Berlusconi nel fare questo approfitta molto del persistere di un determinato tipo di spirito che quelli che tra di noi erano presenti in Italia all'inizio degli anni 90 ed erano abbastanza adulti per ricordarsi e lo ricordano molto bene. Quel clima ottimistico negli anni 90 ancora c'era. Questa idea tipica degli anni 80 che il Paese era cresciuto, che il Paese era cambiato, che il Paese ce la poteva fare, che il Paese ce la faceva, che eravamo ormai diventati ricchi, moderni, che eravamo diventati più ricchi del Regno Unito. Il sorpasso del PIL italiano avviene alla fine degli anni 80, peraltro in un momento nel quale io stavo facendo l'Erasmus in Gran Bretagna e convivevo con cinque inglesi e mi ricordo la loro faccia e mi ricordo anche la mia di faccia, perché ovviamente era un fatto senza nazionalismi. La mia generazione è una generazione che non ha grandi, non è stata formata al nazionalismo, io non lo sono personalmente, ma la mia generazione lo è molto poco, però comunque la soddisfazione del Paese è cresciuto negli anni 80 era molto forte. E Berlusconi si fa portatore di questo, dell'idea che il Paese è cresciuto e non ha più bisogno della tutorship delle strutture pubbliche. Però è già la metà degli anni 90 e già il clima sta cominciando a cambiare, ancora non è del tutto cambiato, ma già sta cominciando a cambiare. Dopodiché il clima è cambiato ancora, ancora Berlusconi ha continuato a sostenere questa tesi, la sosteneva ancora alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, la mette retoricamente alla base del suo periodo di governo 2001-2006, ma il 2001 non è più, non solo l'83-84, ma non è neanche più il 94. Il clima è completamente cambiato e anche qui faccio delle osservazioni molto, come dire, nasometriche, a sensazione. Però all'inizio degli anni 90 proprio la parola liberale era una parola che suscitava qualcosa. Tutti volevano dirsi liberali. Ricordo ancora, proprio in quella stagione, un mio carissimo amico, che non esiterei a qualificare bolshevico, che un giorno mi disse, dice, ma in fondo siamo tutti e due liberali, tu sei un liberale di destra, io sono un liberale di sinistra. E naturalmente gli risposi, guarda, ti voglio tanto bene, ma tu sei un comunista che se ti va bene puoi evolvere in social democratico e te l'auguro, e io sono un liberale. E sono due cose molto differenti. Però l'idea, da una persona, diciamo, organica, alla cultura, all'epoca, appena diventata post, ma per il resto comunista, per legittimarsi, una persona organica alla cultura comunista, doveva dirsi liberale. Ecco, già nel 2001 questo non è più così, sì, ma non è più così, perché il liberalismo si collegava fortemente all'idea che i processi di globalizzazione fossero una grande promessa storica e all'inizio degli anni 2000, invece, i processi di globalizzazione cominciano a essere percepiti da tante parti dell'opinione pubblica, non solo italiana, come invece un pericolo, un qualcosa dal quale essere protetti. poi naturalmente c'è l'11 settembre, che questo fatto lo segna, il pericolo della globalizzazione lo segna ancora di più, e non parliamo poi della crisi economica che scoppierà più avanti, che questo fatto lo amplifica ulteriormente. E insomma, rispetto a questo, quindi, uno dei problemi italiani a me sembra di essere quello dell'eterno ritardo, che peraltro è un problema tipico della storia di questo Paese. Questo Paese è sempre in anticipo e in ritardo. Però, uno degli aspetti delle peculiarità della storia italiana, come, a mio avviso, uno degli aspetti delle peculiarità della storia inglese è quello invece di essere sempre in largo anticipo e di risolvere determinati problemi prima che di nuovi se ne presentino, la caratteristica italiana è quella di essere qualche volta in anticipo, non sempre per il bene. Vedete, per esempio, il 28 ottobre del 1922 è la nascita di quello che è il primo sistema autoritario nell'Europa occidentale e altre volte, molto più spesso, invece è in ritardo. Questo caratterizza, per esempio, anche la vicenda italiana rispetto al partito politico, tanto per dirne una. Però c'è sempre un arrivare dopo. Pensate anche al centro-sinistra, che apre in Italia una stagione di nazionalizzazioni e di aumento dell'intervento pubblico nell'economia negli anni Sessanta, quando in altri paesi si sta già, da un certo punto di vista, ripensando l'intervento pubblico nell'economia, segnatamente in Gran Bretagna, come alla fine degli anni Cinquanta si diceva perplesso Luigi Einaudi, ma come? Proprio adesso che quelli ci ripensano noi ci arriviamo. In qualche modo questo poi si riflette anche successivamente. Questo a me pare un problema molto, molto, diciamo, è un problema essenziale. fare quelle stesse operazioni nel 94 non era la stessa cosa che fare nell'84, fare nel 2004 ancora meno, fare nel 2014 non ne parliamo. Il clima storico è completamente diverso, completamente cambiato. Il che non vuol dire che non si possano e, a mio modesto avviso, si debbano fare, però vuol dire che il clima è completamente diverso, il prezzo da pagare è infinitamente superiore, le difficoltà da superare sono molto, molto maggiori. Le difficoltà sono anche relative a un'altra questione che menziono soltanto per non prendere troppo tempo per poi arrivare agli aspetti che invece mi sembrano più, diciamo, che ci danno qualche maggiore spazio ad ottimismo rispetto a questo e riprendo anche alcune considerazioni di Franco De Benedetti rispetto a Renzi con un segno un po' diverso. Gli altri elementi che naturalmente rendono l'idea di un facerismo all'italiana difficile da implementare è il fatto che guarda caso l'Italia non assomiglia troppo al Regno Unito e c'è ovviamente un problema macroscopico di cultura insomma la Thatcher utilizza una fortissima retorica di ritorno a una cultura tradizionale la cultura del freeborn Englishman la cultura dell'autonomia della società civile dell'individuo lasciamo stare che questo poi in gran parte è una retorica noi tutti sappiamo ormai che le tradizioni sono inventate i postmoderni ci hanno fatto una capa così negli ultimi trent'anni lo sappiamo tutti quindi questo lo do per assodato resta il fatto che anche in termini retorici poter dire questa è una cosa che si colloca sul solco della tradizione nazionale vero o falso che sia tira forza nel momento in cui dici questo in Italia tutti quanti noi che cerchiamo di trovare una tradizione italiana su questo finiamo tutti quanti per cascare su quel povero uomo di Luigi Einaudi che aveva le spalle intellettualmente robuste però poveraccio deve reggere tutto questo poi naturalmente possiamo usare un po' Cattaneo possiamo usare Cavour possiamo ogni volta che dico questo Raimondo alla mia destra dice ahi no questo no quell'altro no quindi Einaudi va bene Raimondo non esageriamo ecco appunto qui Bruno Leoni però sempre e poi sempre tradizioni minoritarie tradizioni che poi si sono misurate con la concretezza del governo di rado con difficoltà e quasi sempre avendo la forza politica che veniva loro da qualcun altro e Einaudi è il caso tipico la politica economica post 45 in Italia la fa Einaudi ma i voti glieli dà la DC mica li aveva lui e questo anche qualcosina forse ci dovrebbe dire c'è naturalmente il problema di una società civile molto diversa la Gran Bretagna il problema di riqualificare posti che sono diventati depressi dopo non esserlo stati affatto dopo essere stati la culla della rivoluzione industriale l'Italia ha il problema di riqualificare posti che una tradizione industriale imprenditoriale non ce l'hanno mai avuta e dove la società civile è molto fragile e qui torniamo al discorso che facevamo in chiusura della sessione precedente come costruisci una società civile là dove una società civile non c'è c'era una frase molto bella di adesso mi ricordo come si chiama ma adesso non me lo ricordo ma me lo ricorderò di un un dottrinario francese che tra gli anni negli anni 40 dell'ottocento se la prende con Edmund Burke perché dice la frase testuale più o meno è se un popolo per essere libero deve esserlo già stato quelli che non lo sono già stati che cosa fanno e mi pare un'obiezione molto molto per Charles de Rémusat è un'obiezione molto pertinente cioè come costruiamo la libertà laddove non ci sono basi da dove come costruiamo la società civile laddove non c'è una tradizione di società civile autonoma vengo in un minuto e poi prometto che chiudo all'aspetto invece più che mi lascia forse qualcosina in più da sperare io credo di essere uno dei pochi che ce l'hanno coi moralisti più di Franco De Benedetti insomma proprio credo che il mio tasso di sopportazione ai loro confronti sia veramente bassissimo nullo credo che sia uno dei grandi problemi di questo paese detto questo la mia impressione è che siano molto deboli cioè questo appello anche quest'ultimo appello che hanno fatto folle di conservatorismo costituzionale fino alla morte fino alla fine è un appello che ha avuto molta visibilità perché gli hanno dati i nemici dell'appello cioè ne ha parlato il Corriere della Sera ne ha parlato Battista ne ha parlato Galli della Loggia è stato fatto anche da nostri amici un controappello che io appositamente non ho voluto firmare perché a me sembra che siano un po' gli ultimi fuochi cioè a me sembra che lo scontro fra berlusconiani e anti berlusconiani in questi vent'anni abbia costruito una sorta di desertificazione totale istituzionale politica e culturale e che Renzi si erga su un cumulo di macerie che sono le macerie dei suoi avversari esterni ma anche le macerie dei suoi avversari interni insomma sì certo uno vede il fatto vede questi intellettuali ma insomma anche l'atteggiamento di Repubblica l'atteggiamento di insomma la sinistra questa cultura di sinistra è un po' suonata perché non ha più un referente perché il suo referente storico che era il Partito Democratico dice tutt'altro e dice delle cose che sono da ogni punto di vista berlusconiane a mio avviso però le dice da sinistra cioè in qualche modo la mia impressione e in questo da liberale vedo un pericolo è che si stia stiano passando dei messaggi di buonsenso che il non buonsenso di questi moralisti in qualche modo lo sta mettendo all'angolo e in questo io credo che ci siano delle possibilità sulla costruzione di un senso comune che poi potrebbe ricostruire un celebre acronimo facceriano TINA there is no alternative se questo è diventato il buonsenso there is no alternative there is no alternative come dire at least in words almeno per quel che riguarda per quel che riguarda le idee naturalmente ci sono molte possibilità di frenare le soluzioni prive di alternative poi in concreto che sarebbe tutto il discorso sul pubblico impiego ma aprirebbe un capitolo del tutto nuovo e invece qui mi taccio grazie grazie la parola al professor Cubeddu come è stato già detto non sarei dovuto essere su questo tavolo ma il presidente di Magna Carta il professor e il senatore Gaetano Guagliariello per motivi politici diciamo così non è potuto venire allora nonostante ci fossero qui fosse qui già presente il senatore Sacconi a rappresentare più che degnamente la fondazione hanno voluto aggiungere anche questo peso che sarei poi io questo mi consente però di fare delle considerazioni riguardo alla tacere un po' ai temi che sono venuti fuori io penso che che le cose talvolta io tanto con Giovanni litigo sempre le cose in realtà nella storia avvengono per caso perché per quanto le idee ci fossero nell'aria quello che mancava era lo statista e il fatto che nasca in un certo si affermi in un certo momento uno statista è una cosa completamente casuale che è data dal fatto che le doti che servono per governare bene per fare lo statista sono come è evidente e come si sa da sempre da sempre sono diverse da quelle che sono necessarie per acquisire il consenso sono due cose diverse che purtroppo se non si fondono casualmente nella stessa persona producono dei disastri questo noi lo sappiamo da sempre da quando esiste la filosofia politica da quando esiste il pensiero politico da quando esiste la storia politica perché la storia politica parte proprio dalla riflessione dalla riflessione di Tucidide su quello che era il personaggio di Pericle e quello che succede dopo noi non vediamo altro che questo il fatto che la Thatcher che sia nata la Thatcher che si sia affermata la Thatcher è una singolare coincidenza di una persona che è riuscita a conquistare un partito a fermarsi in un partito vincere elezioni ed essere contemporaneamente anche uno statista che ha lasciato un segno che ha lasciato un segno non tanto forse per le riforme che ha fatto che poi sono state importantissime ma che comunque come tutte le riforme politiche possono essere discutibili uno dice qui ha sbagliato chi avrebbe potuto fare di più chi avrebbe potuto fare di meno no la cosa importante era per me che ragiono forse troppo in termini di filosofia politica che con la Thatcher si afferma si mostra quello che forse diceva prima Antonio non si riusciva a risolvere ed era l'idea di tornare indietro politicamente invertire una certa tendenza questa idea non era una cosa che nella tradizione inglese fosse nata così a caso se noi andiamo a vedere quella lettera di Keynes con la lettera con cui Keynes risponde ad Hayek che gli aveva mandato la via della schiavitù Keynes gli dice è bellissimo libro sono d'accordo su tutto ci sono delle cose su cui non sono d'accordo ma su una cosa sono d'accordo che bisogna tornare indietro che con l'interventismo stiamo andati troppo oltre qui siamo nel 45 ma stai tranquillo dice adesso torno io in Inghilterra stava tornando da Bretton Hood e rimettiamo un po' le cose a posto c'era si è visto no è morto probabilmente l'avrebbe anche fatto probabilmente io penso che l'avrebbe anche fatto perché era perché era un filosofo politico perché forse pensava in termini molto diversi però si poneva il problema di una tendenza all'interventismo dello Stato che era all'espansione delle competenze dello Stato che era andata troppo in là e che bisognava tornare bisognava restare bisognava ricondurre a un qualcosa di più limitato per evitare che questa dilatazione così estrema distruggesse la stessa idea di politica la stessa idea di cambiamento di valutare il cambiamento la stessa idea di porsi di fronte alle cose che avvengono e rallentarle accelerarle valutarle in qualche modo ecco la Thatcher fornisce col suo esempio da statista un esempio un 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 di organizzazioni, di apparati culturali, di capire il proprio tempo e capire che era il caso di iniziare e di vincere una battaglia contro il potere frenante dei sindacati, contro questo, contro quest'altro. Tutte queste cose noi le vediamo, le analizziamo costantemente, le sappiamo tutte, che in Italia abbiamo bisogno di fare delle riforme taceriane, da quanto tempo non si dice, da quando esiste la tacea. Gli strumenti necessari per queste riforme, ci stiamo parlando da un sacco di tempo, chi più chi meno, siamo tutti d'accordo che quella è una fonte di ispirazione. Cosa ci manca? Di nuovo lo statista, non riusciamo a trovarlo. E la storia talvolta ce ne offre tanti tutti assieme e allora succedono dei disastri, altre volte ce ne offre tanti tutti assieme e allora si evitano dei disastri, come successe quando cadde il muro di Berlino, in cui si trovarono dalla parte occidentale fior di leader che ora ce li sogniamo. Ma tutto questo è casuale. Ciò che non è casuale è il fatto che questa affermarsi del leader che si mette di fronte al proprio tempo e dice, dello statista che si mette di fronte al proprio tempo e dice alt, o dice acceleriamo, e questo è qualcosa che può essere favorito da quella che è la diffusione di idee, da quella che è l'elaborazione di idee. Ecco qui la terza parte, l'importanza della battaglia delle idee. La battaglia delle idee è importante sia per elaborare idee, che poi uno statista può modificare, può usare, può giocare in un certo modo, e sia anche per influenzare l'opinione pubblica, perché è la capacità, il modo stesso in cui lo statista viene recepito dall'opinione pubblica, difende anche da quel humus che si è creato. In Italia ovviamente noi abbiamo questa paura che si affermi un altro Mussolini, un altro Berlusconi, chissà cosa avrà fatto poi, non ha fatto praticamente nulla, insomma, ma vabbè, comunque se ne ha paura lo stesso. E tutte queste cose portano anche a chiederci qual è il ruolo o la funzione ora di quelle istituzioni, come può essere la Fondazione Magna Carta, come è l'Istituto Bruno Leoni, che si occupano in maniera diversa, se vogliamo, ma di favorire una certa produzione e distribuzione o diffusione di idee in un ambito politico. Il rischio è questo, il rischio è sempre quello di prendere un modello e pensare che quel modello, con poche modifiche, possa essere riutilizzato sempre. Questa è una cosa diversa. Certamente il conservatorismo che viene attribuito alla Thatcher, che fu probabilmente uno dei più grandi uomini politici rivoluzionari del XX secolo. E' un complimento anche a quello, uno dei più grandi uomini politici del XIX secolo. Sì, sì, ma va bene per tutti e due i secoli e forse anche per il XXI. Ecco, l'errore da non fare è quello di pensare che quel tipo di idee possano essere di nuovo messe in circolazione e possano essere sfruttate. In realtà la Thatcher aveva un grande vantaggio, che era poi l'essenza del conservatorismo, che è quello di mettersi di fronte a una realtà che cambia e cercare di indirizzare il cambiamento con degli strumenti politici. Ora, di fronte a quella che è la realtà che cambia, la nostra realtà che cambia, che è una realtà fatta essenzialmente da grandi innovazioni che avvengono al di fuori della politica, noi dobbiamo chiederci se possiamo, come la Thatcher, usare ancora lo strumento della politica, della legislazione che produce o che riesce a sortire certi effetti. Questa è già una cosa molto diversa. In realtà la gran parte della regolazione del cambiamento tecnologico, della regolazione del modo in cui il cambiamento tecnologico produce delle modifiche, delle aspettative individuali che si trasformano in aspettative sociali e che generano certe domande di politica, ora non avviene più tramite la politica. Avviene attraverso delle grandi istituzioni sovranazionali, che non si sa se siano private, se siano pubbliche, se sono miste, se sono questo, se sono quest'altro, però sostanzialmente alla politica sfugge la possibilità, molto spesso sfugge la possibilità di incidere su queste cose. Il conservatorismo di cui noi oggi dobbiamo parlare può essere semplicemente un conservatorismo che fa propria, riafferma l'idea fondamentale del conservatorismo, che di fronte al cambiamento è possibile una valutazione tenendo presente che non è detto a priori che ogni cambiamento sia un cambiamento per il meglio. Ma da questo a trarre delle indicazioni pratiche, servendoci delle esperienze di quelli che vengono addittati come i grandi esponenti del conservatorismo, anche del recente passato, il salto è enorme. Il salto è enorme. Ci sono degli errori che non dobbiamo assolutamente fare. Ma cosa vuol dire riaffermare la legittimità, più che la legittimità, la necessità di esprimere una valutazione di fronte al cambiamento? Vuol dire, anzitutto, affrontare quello che è il mainstream, in cui si dice sostanzialmente che tutto quello che sta cambiando, che avviene, che cambia, che ogni progresso è un progresso verso il meglio, sia in tutti i termini, sia anche come progresso di differenziazione, sia come progresso in quelle nuove dimensioni della vita sociale che sono i problemi di genere, quelle altre cose che non si sa, più o meno vaghe, che vengono definite come biopolitica o cose del genere. La tentazione che viene talvolta è quella di tradurre questi temi tipici dai diritti umani alle questioni di genere, biopolitica, giustizia sociale, in termini liberali o in termini conservatori. E questa è la via sbagliata, sostanzialmente, perché significa accettare il mainstream e semplicemente a portarci delle correzioni, ma quelle correzioni non daranno mai una forza propulsiva per poter cambiare il mainstream. Altra cosa, forse, ugualmente difficile, ugualmente incerta, ma è sicuramente entrare nel mainstream con le idee liberali o con le idee conservatrici. Ma questo richiede, però, sostanzialmente, tutta una riformulazione di queste tradizioni. Praticamente, quali sono state, dopo Hockshot, le grandi elaborazioni della filosofia politica conservatrice. Ma Hockshot è morto nel 91. Ossia, se noi dovessimo riprendere la tesi centrale di Dicey, legge e opinione pubblica nell'Inghilterra dell'Ottocento, e vedremo che i grandi cambiamenti necessitano, come dice Dicey, di grandi svolte culturali, filosofiche. Lui parla del Blackstone, parla di Adam Smith, parla di Bentham, e parla di Mill. Ora, per avere un cambiamento in senso conservatore o in senso liberale, noi abbiamo bisogno di grandi pensatori che, conservatori o liberali, intendo ovviamente liberali classici, gli altri, diciamo, listare, che si pongono di fronte a quello che è avvenuto da quando loro sono morti, perché Hockshot è morto nel 91, Hayek è morto nel 93. Dopodiché noi, grandi riformulazioni di queste dottrine o grandi avanzamenti di queste dottrine, purtroppo non ne abbiamo avuti. Punto e basta. Per riparlare o per riproporre questi temi bisogna aspettare quella casualità, se volete, che nasca un nuovo Hockshot, che nasca un nuovo Hayek. In attesa possiamo rimasticare tutto, possiamo fare tanti bei pensierini, tante belle cose, però, come è il caso dello statista, che nasce e che si afferma per caso, e così, a un certo punto, questa fortunata casualità della storia ci offre anche delle possibilità di aspettare laboriosamente, preparando qualcosa, non passando inutilmente questi anni. Con la prospettiva, naturalmente, ben chiara, che è possibile tornare indietro, riprendere quella che è l'idea fissa, martellante, di un altro grande del pensiero filosofico-politico del Novecento, che è stato Leo Strauss, il quale diceva siamo ossessionati, siamo ossessionati e prigionieri di quella idea dello storicismo, secondo la quale non si può tornare indietro. E invece, la possibilità di tornare indietro esiste, va vissuta, però va elaborata, va pensata e va riflettuta. Non può essere improvvisata, come spesso è accaduto. Grazie. Grazie al professor Cube, una nota forse non troppo ottimistica. Adesso la parola al senatore Sacconi. Noi stiamo discutendo di quanto la lezione della storia possa aiutarci a spezzare il circolo vizioso di una nazione in declino, così come Margaret Thatcher, ma non solo, lei riuscì a fare, perché altri contemporaneamente, anche in Italia, qualcosa di simile riuscirono a fare dopo i terribili anni 70. credo che la prima lezione che quella esperienza ci consegna sia la necessità di una leadership capace contemporaneamente di scaldare i cuori e di conquistare le menti. Quindi una leadership che non solo, mossa da adeguata ambizione, sappia imporsi sulle burocrazie, sugli stessi corpi sociali dei quali io ho considerazione, ma che svolgono talora una funzione conservatrice, sullo stesso establishment. ma non basterebbe un'ambizione, una volontà, anche una determinazione di imporsi se questa leadership non imparasse che le idee servono per richiamare il mio amico Franco De Benedetti. penso che, soprattutto in una stagione come questa, la possibilità di spezzare il circolo vizioso della nazione, se vogliamo anche di riunificare una società in transizione che non ha ancora assorbito la sua profonda lacerazione. C'è stata un'Italia dell'Est, non separata da un confine fisico, ma non di meno influente e incidente, nel senso tecnico del termine, sulla coesione nazionale. Ecco, una leadership che abbia queste caratteristiche non può non muovere da principi, non può non offrire una visione, non può non essere poi capace di un'azione conseguente, determinata. Si è fatto riferimento alla tradizione. Mi pare di comprendere che la signora Thatcher si rifece ai principi della tradizione nel momento in cui opponeva al collettivismo, a un'idea della società come collettivizzata, la persona, la famiglia anche, e nel momento in cui lei, che aveva pure voluto la depenalizzazione dell'omosessualità e dell'aborto, però si oppone alla negazione dei principi della tradizione nelle attività educative. Ci sono alcune sue specifiche iniziative a riguardo. Quindi possiamo definire, possiamo riconoscere nella sua esperienza l'importanza della tradizione, perché la tradizione può scaldare i cuori, può sollecitare una società a trovare dentro il proprio vissuto, dentro le proprie esperienze, dentro ciò che hanno tramandato i padri, la forza per reagire ad una situazione di depressione. Principi, questo vuol dire che nel concreto della vicenda che noi stiamo vivendo questi principi depositati dalla tradizione devono essere difesi da una certa vocazione a metterli in discussione. una visione, una visione perché lo stesso tema è una visione non soltanto riferita alla nostra società, alla nostra comunità, ai suoi destini, al destino di una nazione, ma una visione anche nella dimensione sovranazionale, perché oggi affrontare il tema della sovranità nazionale significa confrontarla con la dimensione europea, e i processi di globalizzazione e quindi una leadership che abbia la capacità di una visione geopolitica, geoeconomica, in conseguenza alla quale si può ragionare anche sul destino dell'Europa. E il vero modo di mettere in discussione l'egemonia tedesca sull'Unione è proprio quello di rifiutare il rattrapimento baltico dell'Europa ed avere l'idea di un'Europa di avere una visione che muova dalla funzione dell'Europa mediterranea nei processi di allargamento verso est e verso sud e conseguentemente anche idee istituzionali flessibili a geometria variabile, a cerchi concentrici che possano condurre a mercati più aperti non solo nella pur necessaria dimensione atlantica, ma anche verso quella Russia che non vogliamo spingere verso altre relazioni e verso quella sponda sud del Mediterraneo che non vogliamo spingere verso soluzioni teocratiche. Quindi visione per scaldare i cuori e conquistare elementi e azione e azione certamente nella dimensione interna come peraltro in quella sovranazionale laddove i contenuti sono in parte necessari corrispondono ad agende che sono state anche scritte e teoricamente trovano anche una certa condivisione ma all'interno dei quali contenuti necessari è opportuno individuare anche i contenuti che siano in qualche misura emblematici che abbiano cioè quella forza di spezzare il circolo vizioso e rovesciarlo in un circolo virtuoso. Noi ricordiamo molto della signora Thatcher lo scontro con Scargill che tu hai offeso tremendamente dandogli dello Zagrebelsky era una brava persona che rappresentava era una bravissima persona che rappresentava degli interessi condannati alla con le legittimi le interessi legittimi e profondi destinati alla sconfitta della storia ma io ho vissuto perché ero già parlamentare ecco lo confesso contemporaneamente la vicenda della Scala Mobile in Italia e la vicenda della Scala Mobile in Italia ebbe lo stesso significato emblematico cioè perché ricordate che Craxi che come che come la signora Thatcher si pone l'obiettivo di spezzare il circolo vizioso degli anni settanta e l'anti anni settanta capisce come quella vicenda che gli viene messa nelle mani casualmente perché fino a un minuto prima dovevano firmare tutti l'accordo sulla Scala Mobile poi all'ultimo momento si innescò uno di quei processi tipici della sinistra italiana per cui è più forte di essa quando ha l'occasione di fare del bene c'è sempre qualcosa che la trattiene e in quel caso si innescò veramente un meccanismo che era fino a poche ore prima imprevisto Craxi lo colse lo cavalcò fino in fondo ci mise la propria testa di Presidente del Consiglio sopra l'esito referendario e io che avrò fatto circa 50 assemblee di fabbrica durante quel referendum ricordo tutto ciò che di emblematico si muoveva in quel confronto e l'Italia uscì proprio dalla rottura di quella regola non scritta secondo la quale in materia di lavoro non si poteva decidere senza il partito comunista e non si era mai deciso in fondo nel dopoguerra senza il partito comunista era una convenzione non scritta l'Italia uscì cambiata si avvertì che il fatto che si era rotto un incantesimo un vincolo l'Italia si sentì più libera poi non è so che alcuno di voi in questo momento pensa che Craxi non fu solo oro che ci fu il debito pubblico però di questo un giorno mi piacerebbe discutere del grande contributo che diede Nino Andreatta all'esplosione del debito pubblico italiano con la separazione con il divorzio tesoro Banca d'Italia nel momento sbagliato cosa giustissima in via teorica ma sbagliatissima in via pratica nel momento in cui lo fece e di quanto le sue finanziarie anche perché fu il relatore di due su tre venne frenato un tendenziale organizzato negli anni settanta giusto per rimettere il nostro taccerismo noi fumo accusati allora di essere tacceriani era l'accusa ricorrente cioè era gli zagrebelschi del momento forse lui stesso meno noto e altri usualmente ci davano dei tacceriani perché avevamo cambiato i paradigmi dello stesso modo di governare poi il parodosso è che voi sapete che Taccer e Craxi si odiarono soprattutto a Milano quando lui la fregò la fregò malamente e fece passare l'atto unico dell'anno successivo che accelerò il processo di integrazione poi ci fu l'altra occasione in Maastricht tra parenti in questo caso non era più Craxi ma penso ancora il conflitto con noi quindi quali sono questi contenuti in qualche modo emblematici non solo necessari ma emblematici lascio per un attimo la complessità del tema del rapporto con l'Europa ma certamente affermare la sovranità nazionale dopo tanta depressione a questo riguardo richiederebbe alcune scelte a questo proposito per esempio riconquistarci il debito nel senso di ricontrarci il debito quanto più ma guardo soprattutto nella dimensione interna e vedo tre cose uno nel rapporto tra Stato e società c'è un nodo che al di là delle riforme istituzionali al di là di tutta la bella discussione poi noi ancora ci giriamo dall'altra parte e fingiamo che non ci sia il nodo giustizia colui che affronterà il nodo giustizia governerà per trent'anni finché camperà perché l'Italia gli sarà eternamente grata ma di lì dovrà passare non potrà rimuovere questo problema gli zagrebelschi sono debolissimi politicamente però in procura qualcuno lo conoscono quindi i crodus i salta quindi questo è un nodo emblematico come spezzare questo maledetto circolo vizioso che non è solo come garbatamente dice Renzi la giustizia civile che è un modo di evitare di dire quella penale il secondo punto è ancora lì il mercato del lavoro non c'è niente da fare il mercato del lavoro perché è importante in sé tutti gli osservatori sovranazionali ce lo segnalano ripetutamente poi quando si fa la traduzione in italiano i documenti OXE o fondo normalmente c'è sempre una traduzione volutamente ambigua ma invece la segnalazione è molto chiara anche perché in tutto il mondo si guarda hiding and fighting e qui che in italiano significa un numero fra il 17 e il 19 e anche lì Icrotus Ixalta potrei aggiungere un altro numero fra il 7 e il 9 l'articolo 8 cioè che vuol dire molto la libertà di contrattazione anche individuale cioè la contrattazione prossima la libertà di dentro i principi comunitari che incorporano quelli costituzionali e quelli internazionali la libertà di adattarsi reciprocamente guardandosi negli occhi tra lavoratori e datori di lavoro ma insomma il mercato l'ultimo condivido l'osservazione sul pubblico impiego cioè quella parte del mercato del lavoro che è il lavoro pubblico che poi si sottodeclina con due cose molto precise strutture della retribuzione e mobilità e finisco con non posso non citare il tema privatizzazione e liberalizzazione ma io uso un nome a questo proposto trasporto pubblico locale colui che non dandone le ferrovie grazie lì siamo capaci tutti di dare alle ferrovie la 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 appunto quindi come è stato fatto a Firenze dove si dice a Firenze privatizzazione si dice ferrovie e no parlo di quella vera parlo di quella frutto di una di una competizione e di una non rigida cosiddetta clausola sociale che cioè vince quello che vince deve ereditare tutto il rapporto di lavoro della precedente gestione allora non se ne presenta uno di nuovo c'è solo quello pubblico che può gestire a quelle condizioni lo dico perché è il contratto di lavoro più costoso d'Italia in assoluto supera anche le ferrovie che è il secondo finisco con una considerazione davvero sui pensatoi è giustissima la considerazione sui pensatoi si è detto prima Renzi mi è piaciuta molto la tua considerazione quando dici speriamo Renzi deve imparare che le idee servono certo siamo di fronte ad un leader ambiziosissimo un predatore nato che individua la debolezza della debolezza dell'interlocutore con una immediatezza incredibile devi imparare che le idee servono ogni tanto servono allora serve che una servono io penso che mai come in questa stagione servono davvero pensatoi liberal popolari per quanto mi riguarda pensatoi liberal popolari che alimentino dal punto di vista dei principi della visione dell'azione delle azioni i decisori e soprattutto incoraggino un leader che oggi sembra volitivo appare molto volitivo molto che si ama molto e quindi è molto determinato ad avere gli strumenti attraverso i quali fregare il mondo da cui viene mettere sotto il mondo da cui viene perché soprattutto quel mondo che va messo sotto è l'Italia dell'Est che ancora va messo sotto i suoi cascami e fare in modo che se non ce la sarà ci sia un'alternativa democratica dobbiamo augurarci che ce la faccia ma se non ce la farà che ci sia un'alternativa democratica frutto di questa cultura liberal popolare l'altra faccia della coalizione necessaria che abbiamo in questo momento che tende ormai al bipartitismo è una coalizione che tra poco sarà bipartita cioè un partito socialista e un partito liberal popolare e e allora questo se se noi metteremo in moto questo tipo di sollecitazioni forse ce la faremo a spezzare il circolo vizioso avverto molti fremiti nella nazione gli stessi che avvertì all'inizio degli anni 80 quando dopo quello che ci era capitato terrorismo inflazione e recessione combinate inflazione a due cifre nonostante tutto un uomo se seppe interpretare quel tempo ci fece rialzare e per dieci anni camminammo bene insieme insieme grazie a senatore sacconi la parola per l'intervento conclusivo d'alberto mingardi davvero io mi frappongo tra voi e il pranzo quindi questa è una terribile responsabilità anzitutto mi faceva piacere ed è necessario fare qualche ringraziamento ringrazio ovviamente l'IMT per la sua splendida ospitalità ringrazio quanti hanno lavorato su questa conferenza e alla fondazione Magna Carta e all'istituto Bruno Leone ovviamente ringrazio soprattutto Antonio che è l'architetto di questa conferenza e che ha scelto come dire speaker e temi in maniera così opportuna e stimolante mi spiace non ci sia stato oggi un amico Colin Robinson ma purtroppo è stato male c'è un po' mancato forse di sentire anche la sua voce e da ultimo però volevo fare dei ringraziamenti veramente sentiti non solo a voi che siete stati qua con noi in questi due giorni ma soprattutto ai signori della sinistra lucchese che ci hanno così asperamente contestato all'esterno di EMT che ci hanno consentito di make news cosa che probabilmente non avremmo fatto altrimenti tra l'altro se avessero voluto entrare si sarebbe prodotta una situazione un po' curiosa perché ciò contro cui loro protestano ovvero sia fondi a istituzioni di eccellenza nell'educazione diversitaria sono cose appunto che la tace era tagliato sulla base di un sentimento non troppo diverso da loro come ci ha raccontato questa mattina Philip Booth sono state dette tantissime cose io vorrei fermarmi solo in modo davvero un po' impressionistico su tre temi cioè le idee questa cosa del tornare indietro e da ultimo la questione del percaso della storia della leadership sono d'accordo con quasi tutto ciò che diceva Raimondo Kubeddu prima tranne però quando lui dice perché ci sia un grande ripensamento su alcuni temi dobbiamo aspettare che bussi alla porta un altro Hawkshot che nasca un nuovo Hayek ma potremmo anche sperare di più un giorno una storia di un'umanità un altro Aristotele ci sarà pure un altro Mozart verrà al mondo in un certo momento no beh non è vero questo non è vero non perché ovviamente la vita la storia del pensiero è completamente sottratta al nostro controllo ma anche perché come ci ricorda una bellissima citazione di John Stuart Mill le idee a meno che le circostanze esterne non cospirino a loro favore raramente hanno mai generato un effetto particolarmente rapido o immediato se noi pensiamo diciamo così all'evento politico più cospicuo che è possibile ricondurre la pubblicazione della ricchezza delle nazioni come dato singolo ma in generale la polemica contro il mercantilismo noi vediamo che quell'evento accade 56 anni dopo la morte di Adamo Smith e addirittura un'ottantina dopo la pubblicazione della ricchezza delle nazioni cioè la grandezza del tempo delle dottrine politiche semicitandoti è diverso dal tempo dei fatti politici quella è la cosa interessante che noi vediamo lì in mezzo tra la ricchezza delle nazioni e l'abolizione delle corlo alla fine è tutto un movimento per la diffusione dei principi dei libero scambisti che è affidato a persone di rilevanza modesta rispetto alla storia del pensiero non è che le corlo vengono abolite grazie a Riccardo vengono abolite grazie al lavoro di tutta una serie di pubblicisti di studiosi anche oggi insomma correttamente non ricordati e non studiati perché perché quando parliamo dell'importanza delle idee quando Antonio Masala ci sollecita a riflettere sull'importanza delle idee anche prima insomma dell'ascesa al potere della signora Tassio noi in realtà non ci riferiamo tanto all'importanza dei grandi pensatori che hanno scritto e lavorato nei due tre decenni immediatamente precedenti ma ci riferiamo soprattutto a un lavoro di organizzazione di traduzione di passaggio dalle idee per come possono essere scritte la sua fatto che poi queste idee diventano soluzioni rispetto alle quali magari come ci ricordava Philip Booth questa mattina un leader politico e anche come dire genuinamente ignorante rispetto al modo nel quale le persone che sono lui vicine o lei vicine traducono queste idee poi in fatti e in proposte concrete è evidente che la signora Tatcher non avrebbe potuto schiacciare su un tavolo uno dei peraltro molto sottili obber paper dell'Istituto Economico e di dire questo è ciò in cui crediamo ma doveva prendere un mattonazzo come The Constitution of Liberty perché la cosa avesse anche una sua validità teatrale e un suo impatto ma in realtà poi nel momento in cui le idee diventano soluzioni nel momento in cui le idee diventano decisioni noi non vediamo all'opera i grandi pensatori non vediamo neanche necessariamente il risultato come dire di rivoluzioni scientifiche ma vediamo un processo bizzarro e rispetto al quale noi siamo più o meno tutti convinti che ci sia ma come funzioni e davvero ancora non lo sappiamo per il quale ciò che conta non è tanto che sia stato pubblicato un grande libro di Antonio Masala ma è il fatto che a un certo punto delle persone che hanno anche ruoli minimi non particolarmente rilevanti all'interno di quel grande ingranaggio che è la pubblica amministrazione anziché essere tutti uniformemente schierati in una direzione cominciano a ritenere che vi siano idee spendibili attrezzabili trasformabili in decisioni in un altro senso per cui saremo tutti contenti credo nella vita di incontrare un Michael Okshot o un Hayek questo avviene davvero per caso ciò che forse come dire il caso gioca sempre un ruolo determinante ma ciò che forse invece si può fare per aiutarlo questo caso per attrezzarlo in qualche maniera è questo lavoro più noioso che richiede ovviamente talenti intellettuali assai meno sviluppati quindi maggiormente alla nostra portata che riguarda un'opera di tutt'altro tipo detto questo sul tornare indietro una cosa che ci è stata ricordata molto bene in queste due giornate è che la Thatcher non era solo la Thatcher precisamente questa cosa e non solo ci è stato anche detto che in una certa maniera quando noi ci riferiamo ad alcune decisioni ad alcuni eventi leggendole in una certa maniera stiamo anche contribuendo se non a costruire a diffondere un mito politico il problema se torniamo alla tradizione di pensiero nella quale tutti quelli che stanno a questa parte del tavolo si inseriscono è che noi di quel mito politico lì abbiamo drammaticamente bisogno perché parliamoci chiaro le idee sono una cosa che raramente interessa pubblici più ampi di quello che segue questa conferenza le idee non arrivano alla popolazione in generale non arrivano neanche ai componenti dell'apparato burocratico non arrivano persino agli intellettuali nel senso più vasto del termine dai professori di liceo ai registi attraverso un saggio accademico ci arrivano filtrate da tante cose dall'insegnamento della storia che ci viene somministrato alle scuole superiori dai film dalle serie televisive dalla cultura popolare e quant'altro e a vantaggio del successo dell'insuccesso delle dottrine politiche milita molto spesso l'esistenza di qualche mito che vada in un segno nell'altro ora quando noi parliamo del mito della signora Thatcher e quando Giorno Salli Vanieri ci ricorda che c'è insomma un'eredità liberale della signora Thatcher noi dobbiamo tenere presente che ci riferiamo a una tradizione di pensiero la cui vittoria politica precedente più visibile datava il 1846 quindi questo capite bene di questo mito politico liberale noi abbiamo bisogno anche perché se no come diceva Orsina ci tocca tornare al povero Luigi Inaudi che ha tante caratteristiche ma non potete immaginarvelo sulle magliette dei ragazzini del liceo questo è un fatto abbastanza ovvio tornare indietro ovviamente la mia battuta sul tornare indietro sarebbe immediatamente che la storia non è un DVD non è che si torna indietro si va avanti già la formula mi pare assolutamente stucchevole in realtà non si è neanche tornati indietro noi comunque sia parliamo di una cosa che ci piace a noi a noi non piace che è l'espansione della statualità che ci appare oggi sostanzialmente irreversibile tornare indietro soprattutto è stato tamponato si è andati avanti più piano rispetto al periodo precedente si è andato avanti più piano probabilmente perché perché questa cosa questa sorta di legge della spesa pubblica per cui quando qualsiasi programma di spesa nasce circostanziato e piccolo finisce comunque per diventare generale e immenso questa cosa provoca dei cortocircuiti abbastanza regolari si arriva a un certo momento nel quale il corpo vivo della società coloro che contribuiscono a pagare per la spesa pubblica in qualche maniera poi non ce la fanno più per quanto forte possa essere la presa dello Stato e delle sue risorse simboliche hanno bisogno di una valvola di sfogo e questo riguarda un po' anche il ragionamento che è stato fatto sulla democrazia siamo tutti democratici perché ricordiamo le alternative disponibili sostanzialmente però sappiamo che la democrazia produce alcuni mali questi mali sono stati ricordati prima più volte insomma Sebastiano Bavetta li ha indicati molto chiaramente il fatto che nascono gruppi che vivono di un circuito di un rapporto perverso tra spesa e consenso il fatto che gli apparati burocratici ovviamente acquistano totale autonomia decisionale eccetera 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 e allora forse quello che facciamo più o meno consapevolmente è che ogni tanto desideriamo un leader che con la sua persona e col suo stile di governo forse più che con qualsiasi altra cosa ponga in essere riforme atti per cui quei mali della democrazia vengono rallentati per lo meno per cui c'è una sorta di momentaneo reset qual è la caratteristica qualificante io sono qui assolutamente d'accordo con Raimondo è una questione di casi ovviamente però forse la caratteristica più tipica è l'attitudine allo scontro la capacità di prendere lo scontro e di capitalizzarlo politicamente Franco De Benedetti prima ricordava Scargi dei Minatori ma credo che davvero l'unico paragone sensato che si possa fare in Italia rispetto allo stile di governo della signora Tacera ha ragione Maurizio Sacconi è nel bene o nel male con Bettino Craxi il paragone avrebbe fatto orrore all'uno e all'altro dei due individui paragonati ma non di meno lì qualche cosa c'è stato e del resto per tornare a una cosa che ha legge in questa discussione ma in realtà c'è stata dal primo intervento all'ultimo è scontato che il nostro giudizio e il nostro ricordo di Silvio Berlusconi sarebbe completamente diverso se il giorno in cui è stato ammazzato Marco Biagi lui avesse fatto quello che avrebbe fatto probabilmente la signora Taccia cioè se fosse andato in Parlamento e avesse detto gentili signori voi di qui non uscite se quel numero che sta tra il 17 e il 19 non viene in qualche maniera affrontato politicamente e devo dire credo che il nostro ricordo di Silvio Berlusconi sarebbe parimenti completamente diverso se tra una legge al persona e l'altra avesse che ne so portato a casa perlomeno la separazione delle carriere in realtà il problema di Berlusconi è stato che questa cosa qua non l'ha mai fatta non l'ha mai voluto fare non c'erano le condizioni non c'era quella cosa che veramente è imponderabile e casuale non c'erano le attitudini personali non c'era la capacità la voglia il desiderio di imporsi contro la marea montante e a questo proposito mi fa piacere chiudere col mio aneddoto taceriano preferito che risale a una cena nel 1987 per celebrare il trentesimo anniversario dell'Institut of Economic Affairs c'erano 12 oratori in quella circostanza che parlavano bene ovviamente che lo davano all'impatto di questo pensatoio nella storia britannica la più parte di questi erano economisti giornalisti eccetera la signora Thatcher parlò per dodicesima e concluse così il suo discorso io vi vorrei solo ricordare come dodicesima oratore e unica donna che può essere il gallo a cantare ma è la gallina che fa le uova e forse un po' irriverente ricordare in questo modo il secondo primo ministro britannico più importante nel novecento per la storia del mondo e non solo per quella della Gran Bretagna però credo che abbia ben sintetizzato i temi i quali abbiamo alluso fin qua grazie ad Alberto Mingardi per queste conclusioni piene di verve purtroppo l'orario non ci consente di raccogliere qualche domanda perché andremo troppo in là quindi da parte mia non rimane che ringraziare veramente tutte le persone che hanno preso parte al dibattito come oratori o come persone che sono stati qui ad ascoltare ringraziare naturalmente l'istituto Bruno Leoni la Fondazione Magna Carta ma anche quelli che sono stati i nostri sponsor cioè i Ruin Advisory e la Fondazione Lucchese che ha provveduto alla traduzione grazie a tutti voi speriamo che queste giornate ci abbiano aiutato a trovare un qualche insegnamento dell'eredità taceriana e chissà che anche in Italia qualcosa non possa riuscire a cambiare in tempi brevi grazie